A Gancia, seconda città del Nagorno-Karabakh, si seppelliscono i morti. Sono le donne e gli uomini rimasti uccisi nei bombardamenti delle ultime ore perché la tregua siglata venerdì notte tra Armeni e Azerbaijan con la mediazione della Russia non ha fermato i combattimenti. Armeni e Azeri continuano ad accusarsi a vicenda di violare il cessato e il fuoco. In particolare gli Armeni avrebbero bombardato la città di Barda posta sul confine mentre gli Azeri avrebbero attaccato la città di Adrut dove, come ha riferito il portavoce del presidente del Nagorno-Karabakh, ci sarebbero combattimenti su vasta scala. All'inizio della terza settimana di guerra sono oltre 500 le vittime accertate, decine i civili, ma il bilancio in realtà potrebbe essere molto più pesante. Unione Europea, Stati Uniti e Russia lavorano in queste ore per cercare di rafforzare una tregua che per ora è solo sulla carta, ma la Turchia, esclusa dai negoziati di pace, ha chiesto alla Russia di far pressione sul governo armeno affinché si ritiri dal Nagorno-Karabakh e poi è tornata a minacciare. L'Azerbaijan, ha detto il ministro della difesa di Ankara, non aspetterà altri 30 anni per una soluzione della crisi e noi siamo pronti a sostenerla nella campagna per riprendersi le sue terre.